Per il terzo anno consecutivo il Servizio di Medicina dello Sport del distretto di Pesaro propone il progetto Walk in Progress finalizzato a combattere sedentarietà e aumento di peso prevenendo fattori di rischio cardiovascolare. Il progetto presentato nel comune di Pesaro e promosso dall'azienda sanitaria territoriale è realizzato in collaborazione con gli istruttori della palestra Movens, start-up dell'Università di Urbino. La proposta è quella di allenamenti ad iscrizione gratuita di 10 km di camminate in 10 settimane comprese fra il 4 settembre e la camminata conclusiva del 12 novembre. L'iniziativa si propone di avviare l'attività fisica delle persone che sono inattive o che lungo tempo non praticano più nulla. Il programma di allenamento è un programma ben fissato, ogni settimana ci sono dei compiti da svolgere e gradualmente le persone verranno portate a camminare 10 km. Nelle precedenti edizioni abbiamo avuto una partecipazione di circa 100 persone ogni edizione, quindi quest'anno ci riproponiamo di aumentare le persone che parteciperanno e che arriveranno alla camminata finale. Durante le 10 settimane i partecipanti che seguiranno il programma di allenamento per principianti o avanzato potranno gratuitamente incontrarsi una volta a settimana per una camminata guidata dai laureati in scienze motorie oppure potranno essere seguiti via web o presso la palestra Movens per indicazioni personalizzate. La prevenzione, come dicevo prima, è fondamentale per evitare poi tutte quelle che sono le patologie e le criticità che si manifestano alla popolazione. Nell'istituendo atto aziendale che stiamo ragionando proprio in questi giorni lavoreremo un capitolo a parte per quanto riguarda la prevenzione perché sicuramente migliora la qualità di vita dei cittadini, non crea problemi per le terapie successive, noi sappiamo tutti il grosso problema dei pronto soccorsi, dei posti letto in ospedale, dei medici di medicina generale. Quindi se noi riusciamo ad evitare che il paziente manifesti questa sua malattia è chiaro che abbiamo fatto un grosso lavoro per i nostri cittadini. Quindi questo progetto rappresenta un punto molto importante perché lavora su quella che è l'attività fisica che previene malattie cardiocircolatorie, obesità, diabete, dismetabolismi e malattie oncologiche. E naturalmente rappresenta un punto fondamentale da mettere in associazione con la corretta alimentazione e con degli stili di vita. Una cosa molto banale, noi parcheggiamo sempre davanti al posto dove dobbiamo andare a lavorare, dove andiamo a fare spesa. Basterebbe che lo spostiamo di 500 metri tutti i giorni e raggiungiamo quello che è l'obiettivo di un'attività fisica senza dover fare grandi sacrifici. La cosa importante, voi siete fondamentali da questo punto di vista a far capire alla popolazione il benessere di una cosa banale come quella di camminare o non prendere l'ascensore e magari fare le scale o magari mettere qualcosa in più rispetto a quello che è la nostra vita sedentaria, televisione e sede di lavoro.